Ma un uomo come te, così attraente, sì, pieno di fascino, di vitalità, sì, così interessante. Ma no, dai, su. Veramente. Ma dove vuoi arrivare, scusa? Il celibato. Beh? È un percorso di autodisciplina. Ma è una crudeltà. No, un dovere. Ma scusami, le pulsioni? Una scelta. Non ci credo. No, ce ne crede. No, non ci credo. Ma no, ce ne crede. No, non ci credo. Ma no, credici, dai. Non ci credo. Ma ce ne devi credere. Non ci credo. Ma credici. E ce ne devi credere. Per favore, dai, credici. Scusa, eh. E non ci credo. No, no, no. Non ci credo. Non ci credo. No, no, ferma con i bacetti. Non ci credo. No, no, ferma con i bacetti. No, 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 ferma con le mani. Ferma con le mani. Non ci credo. No, ferma con le mani. No, il pantone, no. Questo no. Questo no. Eh no, eh. Ma hai sequestrato qua dentro. Ma basta. Guarda, mi va bene Cervia, mi va bene Cattolica. Ma baci in bocca e in mani addosso. No, eh no, eh. Eh no, eh. Eh no, eh no, eh no, eh no, eh no.